Salve a tutti, popolo di Youtube, io sono Bedzeus93 della GamersTheGang e benvenuti ad una nuova parte di Kingdom Hearts 2 Final Mix. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare la pagina di Kingdom Hearts Saga su Facebook che linka sempre le nostre parti. Grazie. Seconda cosa, noi ci eravamo fermati allo scontro con Setzer. Dovevamo sfidare Setzer. Allora. Poi sotto lascere il link della pagina di Kingdom Hearts Saga dove potete trovarli, così per gli appassionati di Kingdom Hearts potete mettere un mi piace e potete seguire i loro post. Ho cercato di corromperlo. Lasciami vincere e farò valutti un po' di tempo. Senti reale. Roxas, il nostro herò di underdog, contro il Setzer, il nostro campione di defendente. Il vincitore di questo match sarà il vero campione. Questo è braggio per un anno, ragazzi. Qualcuno che crede sia vero, sei vero. E questo è un grande errore. Ma è un saggio per caso? Ma è un saggio per caso? Non vantarti troppo. Nonostante le sue parate, a quanto pare riesco a far piedi. Mi ha preso in pieno. Mi ha preso in pieno. Mi ha preso in pieno. Intanto continuo a picchiare e io prendo le sfere restanti. Mi riprendo le mie. E ti è giù. Mi ha preso in pieno. Mi ha preso. Mi ha preso. Proxas! Proxas, Proxas. Ho fatto! Direi. Nuovo campione con la cintura. Ti senti forte, però il vero è che... Questi incontri non sono niente in confronto al vero gioco. Abbiamo vinto la cintura e il trofeo. La cintura possiamo anche indossarla come equipaggiamento e dovrebbe dare 20 di resistenza a tuono... ...ghiaccio e fuoco. Niente di che. Però per l'inizio, vabbè, è sempre una difesa in più. Bello. Rompiamo il trofeo appena vinto. Con tranquillità, senza porsi un problema. Come promisato. Grazie un po' a tutti, Roxas. Un altro trofeo per noi da condividere. Ho anche un trofeo per tutti. Bene, effetti, però, se il trofeo l'ha vinto per tutti... E così scivolo Roxas. Kairi, aspettate! Queste sono le prime immagini dove vedremo Kairi cresciuta dal primo, vabbè, giustamente. E l'altra è selfie. Kairi e Wakka sono tutti in loro ballgame, e non ne andranno con me. Non oggi, scusate. Awe, perché non? E ho detto anche i nomi di Wakka e di Ilus che fanno parte di Final Fantasy X. Giusti. Yeah, I wonder what ever happened to him. I sure miss him. He's far away, but I know we'll see him again. Sure, of course we will. And the other boy? What other boy? The one who was with Riku and me all the time. Siamo insieme sull'islande. Il suo voce sempre era là, e ora è fuori. Non mi ricordo di suo viso o suo nome. Mi sento davvero. Quindi ho detto, non vengo alla islanda fino a quando mi ricordo tutto di lui. Sei sicuro che non lo scopi? Nominate? Nominate, cosa sta succedendo a me? E questo non è il mio nome. Sono Kairi. Kairi? Lo conosco. Sei quella ragazza che mi piace. Chi? Sì, un nome! Sono Roxas. Ok, Roxas. Ma potresti dirmi il suo nome? Non ricordi il mio nome? Molto grazie, Kairi. Ok. Penso che potrei dare una nota. Inizia con un S. Sì. Sì. Abbiamo potuto sentire con certezza la voce di Sora. Quando è svenuta? Sì. 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 Penso che abbia deciso di tornare sull'isola. Doveva ricordarsi di sora Direi che deve essersi per forza ricordato Che è quello? Una lettera I wrote it yesterday To the boy I can't remember I said that no matter where he is I'll find him One day And when I stopped writing I remember we made a promise Something important This letter is where it starts, I know it Wow I hope he gets it He will Starts with an S Right? Sora? Sora? Restoration health 79% E' quasi venita la rigenerazione His progress is astounding So what happened? Naminé's encounter with Roxas put his heart in contact with Kairis And that in turn affected Sora See? Naminé She's a wonder She wasn't born like other nobodies She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him But who's nobody is she? I could tell you But first Perhaps you could tell me your true name It's Ansem Ansem Che è stranamente qui perché nel primo avevamo ucciso L'avevamo appunto ucciso Perché l'abbiamo appunto ucciso Bene Questo è uno dei video in più del final mix Infatti potremmo non sentire le loro voci Che è stranamente qui Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Che è stranamente qui perché nel primo avevamo appunto ucciso Oh, no. Sto sfruttando. Fino a due secondi fa stava cadendo. Sto sfruttando. Ma quina parte era il sfruttare? Sto sfruttando. Sto sfruttando. Sto sfruttando. Ma abbiamo accaduto che avessi finito oggi. Sto sfruttando la torre di stazione, non ho? Non sarei qui se lo avessi. Ma, ma... E' una vicina. Quindi... Non è accaduto. Però era accaduto. Boh. No. Sto sfruttando. Sto sfruttando l'indipendente. Quindi... Cosa c'è un'idea brillante per un tema? Potremmo... potremmo studiare la cosa che sta succedendo a me. Svegliere i... ...i sogni... ...i... ...i ragazzi in white. Spesso! Cosa? Svegliere, cose sono strane con te in la città da quando le foto si è scoperto, certo? Ma, ieri... ...mai tutti sfruttare la città e sapere cosa sta succedendo. Molta gente che aiutano. Questo per me? Vi prendere un'acqua. ...e' praticamente impossibile. ...e' praticamente impossibile. ...e' praticamente impossibile. ...e' praticamente impossibile. ...questi ancora fanno i compiti. E sono finite le vacanze Da quello che ho capito Bene Bene La parte può finire qui Nella prossima parte Quindi ci dedicheremo alle sette meraviglie Allora Se vi è piaciuto va bene Mettete mi piace Mi raccomando condividete Fatelo vedere a tutti Seguiteci Anche sulla pagina di Gio33x Spero vi sia piaciuto Alla prossima parte Da non perdere Ciao